buongiorno ma che buongiorno e buongiorno ah la fascia del buongiorno che si dà? vorrei di latte latte? che latte? latte per la mia foca ah foca? si e gli fa bene al pelo e beh certo una piva e piuttosto quanto crede ce ne voglia e beh saprei ma lento che cosa è lo devi mettere dentro al scarabagno o dentro al bidet? ma cosa hai capito? glielo do col biberon col biberon col biberon se mi fai capire come fai tu regalo il latte venga a vedere come no? è la è la è la è la è la è la